Benvenuti amici di Lombardia Notizie Online per il nostro ormai tradizionale appuntamento con le pillole di salute. Oggi a Milano piove, è un fatto abbastanza strano anche se auspicato da tanti, ma il fatto che scenda un po' di pioggia non deve distogliere la nostra attenzione dal fatto che ci possono essere fenomeni per chi soffre di allergie. Ne parliamo con il professor Schröder, allergologo all'ospedale di Liguarda. Quali sono gli elementi nei confronti dei quali dobbiamo stare attenti soprattutto per chi soffre di allergia? Il discorso fondamentale è chiaramente la sintomatologia, capire realmente che uno allergico quando sta nuti, quando è purito il naso, purito la cremazione agli occhi, fa un'indagine, fare una visita allergologica con approfondimento, con i test per capire realmente che cosa ha e quindi individuare questa cosa. Il discorso della pioggia, infatti noi viviamo in questo momento chiaramente nel pieno dell'impollinazione, soprattutto i primi o dei casi più frequenti sono le allergie alle graminacee, ai polini e graminacee. Prima avevamo quelli delle alberi di betulla, di nocciolo, adesso siamo graminacee e il problema è che da un lato la pioggia aiuta a togliere un pochino i polini, ma il primo giorno della pioggia può anche peggiorare perché spezza i polini per terra e diventano da uno, diventano anche centinaia che possono creare anche delle crisi asmatiche. Ecco questo ha sfatato un po' una delle nostre convinzioni da profani, pensavamo appunto che quando piove i polini vengono schiacciati e quindi fondamentalmente non danno fastidio e invece il professore l'ha smentita. Mentre un'altra delle allergie più diffuse, soprattutto qui in Lombardia, è quella all'ambrosia che viene un po' più avanti nel tempo. Assolutamente, inizia generalmente verso metà agosto, dal 15 agosto fino ai primi di ottobre è che è di nuovo in crescita. Noi per qualche anno avevamo una riduzione dell'allergia e invece negli ultimi due anni abbiamo visto di nuovo un aumento. Purtroppo, essendo poi dei polini molto piccoli, entrano negli alveoli, entrano proprio fino in fondo i bronchioli del polmone e danno spesso asma. Quindi infatti anche lì stiamo facendo proprio un pochino una terapia preventiva. Cerchiamo proprio di invogliare i pazienti a dire ok, veniamo e facciamo subito una terapia. Quindi per essere anche abbastanza divulgativi nei confronti degli amici che ci stanno seguendo, chi ha il sospetto di avere un'allergia fa richiesta al suo medico di base affinché possa fare una visita specialistica e dopo cosa succede? Quando viene da lei quali test vengono somministrati? Noi facciamo normalmente subito i test cutanee, in giro di 15-20 minuti si capisce e si vede realmente a che cosa la persona è allergica, se è allergica. In base a quello poi prescriviamo la terapia sintomatica che è legata normalmente all'antistaminico, a un lavaggio nasale, a un spray steroideo nasale, ma nelle persone che hanno un'allergia importante facciamo poi anche la prevenzione che è l'immunoterapia specifica, che è un cosiddetto vaccino che si fa prima della stagione, quindi si inizia per esempio per l'ambrosia, si inizia a fine maggio, così durante il periodo estivo uno non ha più i sintomi. Abbiamo parlato delle allergie più diffuse, chiudiamo con una curiosità, ce n'è qualcuna in particolare poco diffusa ma che sta cominciando a destare qualche preoccupazione? Sicuramente sono più delle forme un pochino tipo cipresso, noi a Milano non abbiamo mai avuto problemi di cipresso, negli ultimi anni abbiamo notato dei valori altissimi dei polini nella primavera molto precoce, quindi già verso gennaio-febbraio sono valori alti e persone che soffrono, l'altra è alteanaria, alteanaria che sono i micofiti dalla decomposizione delle foglie e sono anche questo in aumento, dà anche questo spesso proprio l'asma, per cui è importante proprio prevenire. Grazie allora al professor Schröder, a voi che ci avete seguito, l'appuntamento è una prossima edizione delle Pillole di Salute su www.lombardienotizie.online e sulla nostra pagina Facebook. Alla prossima!